Il Palazzo Madama ospita fino a febbraio un dipinto dell'Ermitage, una sacra famiglia di Raffaello, che è arrivata come scambio di un altro importante dipinto italiano di Antonello da Messina, che è stato ceduto all'Ermitage per le vacanze natalizie. Quindi uno scambio di opere con il Museo dell'Ermitage, che è cominciato con Basilez, che proseguirà negli anni prossimi con altre iniziative. È un dipinto importante, anche se poco studiato. È un dipinto che ci mostra la pittura di Raffaello attraverso un'iconografia semplice, che è la sacra famiglia, quindi la Madonna col bambino e San Giuseppe. In particolare la figura della Madonna e la figura del bambino appartengono a pensieri che Raffaello ebbe nel suo breve periodo fiorentino, dal 1504, quando arrivò a 21 anni, fino al 1508, quando partì per Roma. Un'occasione per conoscere un genio del Rinascimento in esposizione fino al 23 di febbraio.